Fiat Doblot 1.6 Multijet SX 105 CV immatricolato a marzo 2014 ha percorso 115.000 km effettivi certificati proviene dal noleggio a lungo termine e ha effettuato tutta la sua manutenzione e in ottime condizioni andiamo a visionarla ora nei particolari vedete qui le gomme nuove appena cambiate da noi impianto stereo con presa usb presa aux telefono aria condizionata 6 marce i chilometri come dicevo sono certificati qui abbiamo i comandi al volante ecco la porta laterale che ricordatelo non sempre è presente questa vettura potete visionarla e provarla alla Lenticar a Castelletto di Branduzzo in provincia di Previa visitate il nostro sito e chiamateci immediatamente per qualsiasi informazione ciao ciao